Si è tenuta al Comune di Ischia la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Natale con il Cuore. Ne parliamo con Ottorino Mattera. La scorsa volta già è stato un successo e quindi avete deciso di replicare? Sì, abbiamo deciso di replicare soprattutto perché c'è stata anche un'ampia partecipazione dalle cinque associazioni che ci hanno dato una mano per le manifestazioni. Sono passate a dieci, quindi abbiamo raddoppiato anche il numero delle associazioni partecipanti e gli appuntamenti nelle strutture sportive sono veramente tanti e sono multidisciplinari soprattutto. Si parte con il 20 e si arriva fino alla chiusura il giorno 5 e quindi avremo una serie di attività svolte in piscina con le varie associazioni dalla Palla Noto, alla Befana in piscina, al Babbo Natale in piscina, a una serie di attività ludiche anche con i bambini e poi nelle altre varie multidiscipline al Polifunzionale, alla Marconi, al Palazzetto dello Sport con calcio a 5, volley, basket, ping pong, kung fu e tutto quanto è lo scenario delle nostre attività locali sportive. A fianco a questo c'è sempre il tema della solidarietà che a Natale non stona mai e che in un momento come questo di grave sofferenza anche dell'economia contribuisce a sollevare anche un po' il peso sui più deboli per i più deboli attraverso la raccolta anche di fondi con la Wildman di Raffaele Brischetto. Ricordo che questo ci ha consentito quest'anno di inaugurare anche il servoscala alla Sojuzzo donato interamente dalla Wildman che ha scelto Ischia proprio per la sua generosità come luogo per poter avere questo servoscala. In tutta Italia l'abbiamo avuto solo noi, ha avuto anche un costo notevole e oggi ci consente di aver attrezzato la palestra della Sojuzzo a vantaggio sia dei scolari eventualmente disabili della scuola sia di eventuali sportivi anche con le loro disabilità per usufruire della struttura. Quindi come vedi insomma tutto quello che noi offriamo al territorio poi ci ritorna in un modo o in un altro anche in termini di risultati e quindi ci è sembrato giusto dare lustro alle attività sportive e sociali svolte da queste ultime in uno con l'associazionismo che devo dirti è vivissimo e porta veramente dei risultati a costo zero sostanzialmente.